Il nostro dire è per i semplici. Attraverso Wanda, 19 maggio 1998, a cura di VB, i fratelli dello spazio. Salve sorella, con il nostro salve noi salutiamo tutti i fratelli umani di buone intenzioni che avventurandosi per la via spirituale trovano riscontro e appagamento per il loro cammino. Sorella, notiamo e sentiamo quanto desiderio ci sia nelle creature che ci vogliono conoscere e doniamo la nostra energia e il nostro amore a chi ci conosce già. Ringraziamo del suo desiderio la creatura che sa abbastanza di noi tramite te e notiamo con piacere che per lei è iniziata la strada propria della schiera di creature disposte a un dialogo d'amore. Le saremo sempre vicino. Non si è aperta abbastanza per sentire alla nostra vibrazione, ma avverrà prima che non si dica. L'importante è perseverare nella strada dell'amore e dell'evoluzione. Non a caso, in quello scritto di alta spiritualità, hai trovato la conferma alle nostre parole, anche se noi, per farvi capire in che cosa consista l'evoluzione, ci siamo espressi con semplicità. Il nostro dire è per i semplici, per le creature che non si lasciano montare la testa dal sapere. Un medesimo concetto, anche se formulato in maniera altisonante, rimane lo stesso. Da qualsiasi punto si guardi e si esprima, rimane lo stesso.